... Molti di voi saranno stati anche alla prima parte e hanno visto come sono riusciti a collaborare i piccoli con i grandi e come i grandi sono stati capaci di insegnare tante cose a quelli più piccoli. Adesso è il momento in cui vediamo i bambini che possono portarsi a casa un capello da un'università. Allora, voglio direttore. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.